Ciao ragazzuoli, sono sul treno e non so se si vede un po' se c'è ancora un po' di trucco perché per chi si sa la storia, vabbè storia lunga ho fatto sono andato a lavorare a fare non la mascotte ma ho dovuto fare una pesta, uno scherzo a una persona e quindi mi ero un po' trucchato di quantità, ma non pagato, l'importante è qua comunque, vando alle challenge, ora mi sto dirigendo a Taranto, direzione Taranto Comics cerco di far durare il suo video 5 minuti, non succederà mai, durerà siccome a solito una 20 minuti però a meno, se lo vedo in 4 pezzi, c'è di più, poi ho scoperto che molte persone si guardano anche i miei video in 4k sulla tv adatta, quindi hanno la tv adatta per guardare e niente, manca ancora tutto qua, ma ovviamente si va in giro, il mio obiettivo sarà quello di fare una foto con Joe Kayakono e ovviamente si va bene con Maurizio Meluzzo e soprattutto con Chris Fit ci sarà pure Emily TV, vabbè storia lunga per chi conosce Emily TV nel senso solo per gli old school come a me, per chi ha iniziato come youtuber sani, di cosa sto parlando e niente, è tutto qua, ci vediamo tra un po' ragazzuoli, niente, mi sono fatto la foto con Maurizio Meluzzo e ovviamente il mio obiettivo sarà già un cagliacono, se non avessi fatto con Maurizio Meluzzo con questo ancora un po' di rossa per lo scherzo che hanno fatto ieri alla festa che mi hanno pagato per fare, sai cosa che poi gli hanno regalato la brasiliana che poi vabbè sono indeciso se pubblicare o no la foto, visto che stavo vestito di... sembrava una drag queen per come ero vestito un po' mi vergogna ammettere, non perché però, soltanto sai, un po' di imbarazzo, chi lo sai, se ci prendo gusto le tante, se mi pagano, mi posso trovare le tante volte voglio comunque, a parte questo, se tutto va bene, io scappo a me la foto con un gioco agli acono con Chrisfit l'ho già fatta, quindi il top, non devo fare la fila di nuovo anche per Chrisfit quindi siccome posso andare verso le sette, così arrivo alla stazione delle otte qualcosa mi hanno dato acqua viva e mi faccio venire a prendere il mio padre e niente, tutto qua, comunque no, spero ovviamente ci sia, cioè spero vada a riscaffarlo con già un cagliacolo mi sono seduto a terra e poi ho scoperto che è bagnato a terra, mi sono sporcato i pantaloni, pazienza spero la gente non pensa male quando vedo un marro dietro Salve ragazzi, a breve faccio IRL, mi sto divertendo, c'è gente che mi conosce mi sono fatto già due foto, e meno mai non mi chiedono autografi perché faccio schifo a scrivermi mi dà fastidio a scrivere, sto leggendo e sto scrivere però tranne le frasi nuove, se straniere che non ho mai scritto in Italia mi ha un po' trick ma banda se cavolate qua, vado live, però questa cosa è un video che... però chi mi avrà visto la lag, spero, sarà tutto bene Sto un attimo aspettando la fila del... come si dice... sto aspettando la fila per via del... per già un cagliacolo hanno fatto un'altra fila diversa, prima sta a fare una fila lunga che era per me ho visto come Luzio però già l'ho fatta la foto, e ora tra un po', tra una mezz'oretta abbondante, anche di più farò con Giao Cagliato, cioè Luzia, tra una mezz'oretta abbondante ma in turno non avevano di molti scassi, e niente, ci vediamo tra un po' grazie a tutti grazie ragazzi ciao 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 ciao